Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Perché sono così sorridente? Perché la Juventus primavera ha appena vinto 3-1 contro il Chelsea ed è la prima vittoria di quest'anno in Youth League. E quanto mi era mancata la Youth League. Cioè, è vero che hanno già giocato, però la scorsa partita non ho potuta vederla perché non la facevano da nessuna parte. Questa partita invece ho potuto vederla e sono contentissima. L'anno scorso non l'hanno fatta, avevano creato un nuovo format ma alla fine hanno deciso di annullare tutto per coronavirus. Quanto sono contenta. Sono contentissima. Allora, il primo gol arriva con Soleil, praticamente il lancio di 20-30 metri di Moaremovic e Soleil, che la fa rimbalzare una volta e poi di pallonetto con il portiere che usciva, la mette dentro. Allora, raddoppiamo, andiamo sul 2-0. Allora, innanzitutto c'è da dire che è stata un'azione molto elaborata. Hanno partecipato praticamente tutti. Comunque, Mulazzi praticamente la dà a sinistra. Poi la palla viene passata indietro a Miretti. Miretti fa un lancio in mezzo e trova Chiboso, che con il petto fa la sponda per Mulazzi di nuovo, che nel frattempo si era inserito. Quindi inizia e conclude l'azione e da lì fa un gol. Secondo me è fantastico. E poi, cioè, allora, loro nel secondo tempo accorciano le distanze, ma verso l'ottottottesimo, novantesimo, noi riallunghiamo le distanze con un contropiede di Turco e il gol di Galante. Galante, sì. Non ricordavo più perché ho visto solo una volta il gol perché ero una medicazione, quindi... Ecco. Quindi finisce 3-1. Noi facciamo la prima vittoria di questa edizione. L'altra volta con chi era, con le giovanili del Malmo avevamo avuto una sfortuna assurda, almeno da quello che ho letto. Nel senso, come vi ho detto, non ho visto la partita, però, cioè, da quello che leggevo aveva occasioni più che altro la Juve. Eppure abbiamo avuto una sfortuna assurda. Bravi ragazzi, sempre fino alla fine forza Juve. Noi ci vediamo fra poco con l'Under 23 che sta giocando in questo momento e stasera con Juve e Chelsea. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.